Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento in ricordo di Darwin Lupinetti, il vigile del fuoco di Teramo scomparso a soli 36 anni. Appuntamento domenica 8 maggio con il sesso Memorial. Sì, certamente ogni anno i vigili del fuoco sono talmente attaccati a questo ricordo della figura di Darwin Lupinetti che sistematicamente dedicano una giornata alla memoria di questo grande vigile del fuoco e con l'occasione il nostro dipartimento ci accorda anche l'organizzazione del campionato nazionale di ciclismo su strada per vigili del fuoco quest'anno è la 27esima edizione che vede in particolare Teramo un po' al centro dell'Italia perché sono quasi 350-400 atleti tra vigili del fuoco e anche amatori che ovviamente in quella giornata, anche dal giorno prima, potranno ammirare non solo le bellezze del Teramano ma anche, come vedete, un'organizzazione che anche quest'anno è all'altezza degli scorsi anni anzi, forse abbiamo migliorato ulteriormente. Si partirà qui la mattina verso le 8.30, faremo questo percorso che si articolerà su un centinaio di chilometri con un'ascesa fino a 1.225 metri in località Piano Roseto dove vi sarà un gran premio della montagna da lì ci rimetteremo sulle valli del Teramano per tornare qui davanti alla caserma sul viale antistante dell'ingresso dove ci sarà il traguardo Per quanto riguarda il post gara è stato allestito questa sorta di villaggio all'interno della nostra caserma dove cercheremo di alleviare le fatiche degli atleti con un ristoro